ventenni di tutte le da siamo qui per presentarvi ventenni peperoni si avete capito bene ventenni peperoni ovvero la nostra nuova rubrica di ricette a tema fumettistico l'idea è partita dalla nostra rubrica di fumetti e cucina ideata e curata dalla nostra giulia questa idea nasce dal desiderio di portare sulle vostre tavole tutti quelli che sono i piatti tipici della tradizione culinaria di disney quante volte avete sognato di addentrare la torta di nonna papela quante volte avete voluto affrontarvi a casa di paperino per assaggiare le sue mitiche frittelle e quante volte avete sognato di condividere una squadra di fagioli sotto nel stile del contact con i papeloni da adesso potete farlo non siamo pochi provetti ma semplici appassionati di fumetti disney e di cucina e quindi proveremo a coniugare queste due realtà per realizzare un sogno che è nostro ma anche vostro di assaggiare finalmente tutti i piatti che sognavamo di divorare da bambini leggendo le nostre storie mi raccomando continuate a seguirci per scoprire cosa bolle in pentola letteralmente